Tutta la sua eredità andrà alla sorella con cui non parlava da dieci anni, almeno secondo quanto ha dichiarato lei una volta rintracciata e interrogata dai carabinieri. Lelio Baschetti, il professore deceduto presumibilmente nel 2011 quando aveva 68 anni e ritrovato mummificato nella sua casa di Santa Marta dopo sette anni domenica pomeriggio, era solo e non aveva figli. L'unico parente in vita è appunto la sorella Illiria, residente a Lido con il marito. Avrà la casa e i soldi del conto corrente un centinaio di migliaia di euro. In questi sette anni nessuno si è accorto dell'assenza dell'uomo e dal momento che non è stato dichiarato deceduto l'Inps ha probabilmente continuato a derogare la pensione. Contributi che oggi alla luce dei fatti potrebbero anche essere chiesti indietro. Se così fosse la somma monterebbe a circa 80.000 euro. Una parte dei suoi risparmi andrebbero comunque alla sorella e non sono pochi. Al momento il conto corrente resta però sotto sequestro perché i carabinieri stanno proseguendo le indagini bancarie alla ricerca di movimenti o prelievi antecedenti la morte dell'uomo che dall'esito dell'attacca disposta dal pubblico ministero è stato confermato non è riconducibile a traumi violenti. Le cause del decesso però sono ancora sconosciute. Sull'identità invece ormai ci sono pochi dubbi che potranno essere fugati definitivamente dall'esame del DNA comparato con quello della sorella. Poi si deciderà se dare il via libera ai funerali.